Buonasera a tutti, vi do il benvenuto in questa bellissima lenda, vi ringrazio per essere presenti a questo inizio di corso, un corso che si terrà nei prossimi mesi per un totale di dieci lezioni e quello che cercheremo di fare è di costruire il sito web del nostro avatar. Noi pensiamo di fornire delle conoscenze di base sull'implementazione di un sito, la costruzione delle pagine, il codice html, cercheremo di vedere tutte queste particolarità utilizzando un template, il template ci facilita nella comprensione di come viene costruita una pagina web, osservando il codice e cercheremo con un po' di fantasia anche di aggiungere le nostre foto per far sì che questo sito che poi successivamente verrà pubblicato possa essere il nostro biglietto da visita o perlomeno il biglietto da visita del nostro avatar. Il percorso quindi che noi cercheremo di seguire è quello di comprendere quello che si fa a partire dal linguaggio usando i termini appropriati, cercheremo di capire attraverso il template cosa significa l'implementazione di una pagina, dei suoi link, di tutti gli oggetti che ci sono contenuti, la struttura di un sito in cartelle sotto cartelle e utilizzeremo un software che si chiama Dreamweaver che è un software professionale per pagine web. Tuttavia siccome è un software a pagamento pensiamo anche di usare un altro free per permettere a tutti di poter lavorare senza troppi impegni dal punto di vista finanziario. Quindi gli strumenti che noi utilizzeremo saranno Dreamweaver come vi dicevo poco fa, c'è una versione trial però dura solo 30 giorni quindi c'è per questo cerchiamo di utilizzare un altro software che è open source che è BlueGriffon, GIMP per le immagini, Total Commander per il trasferimento dei file per fare l'FTP, il template che abbiamo prelevato da un sito web e poi prenderemo uno spazio free per poter pubblicare le nostre poche e per carità e per la prima pagina del nostro sito. Vi ringrazio per la presenza qui in Sperimenta e spero di ritrovarvi al più presto per l'inizio delle lezioni. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.